Ok, allora, benvenuti a questa seconda puntata del ciclo di Catechesi Bibili sull'Antico Testamento. Buongiorno, mando per chi sta seguendo la diretta Telegram, adesso vedete per un pochino la mia faccia, poi manderemo però in diretta le slides e poi anche i passaggi biblici, insomma con la traduzione multipla per poter seguire bene anche i passaggi dell'esegesi. Quindi soltanto due parole di introduzione, questa sera presentiamo i primi undici capitoli del libro della Genesi, prima quindi del ciclo di Abramo, capitoli focali importantissimi e stupendi che sono appunto quelli che vanno dalla creazione dell'universo al diluvio universale. Sono bellissimi, importantissimi, inutile dire che sono passi basilari e che oggi più che mai rappresentano un po' una pietra dello scandalo, perché si situa in un contesto come quello contemporaneo dove ci sono stati vari tentativi di rilettura evidentemente in chiave acristiana o anticristiana di questi eventi, quindi che sono stati da molti fondamentalmente relegati nell'ambito del mito, quindi cose che favole o miti, evidentemente una prospettiva assolutamente inaccettabile per noi credenti, cioè non si può pensare che queste cose sono favole o miti, come avremo modo di vedere e commentare. Bene, io switcho sulla condivisione dello schermo per quanto riguarda Telegram, così possiamo cominciare a seguire anzitutto la presentazione. Spero, i miei collaboratori per favore, se c'è qualche problema che dovesse esserci, se qualcuno sta seguendo, se c'è qualche problema, mi mandino un messaggio in modo tale che posso immediatamente poi intervenire per metterci una toppa, diciamo così, al volo in diretta. Vado. Allora, questa è la prima slide, ho dovuto mettere una piccola miniatura della creazione dell'uomo, ecco, questo dipinto che tutti conoscono, di Michelangelo Bonarroti, che si trova in Cappella Sistina, Roma. Quindi, dalla creazione del mondo alla Torre di Babele. Allora, io prima presento nella panoramica complessiva questi undici capitoli, ecco, dopodiché usciamo dalle slides e passiamo alla parte biblica, per poter vedere alcuni testi evidentemente fondamentali nel dettaglio. Allora, i primi due capitoli descrivono la creazione dell'universo e dell'uomo, in particolare il secondo si polarizza sulla creazione dell'uomo, appunto, della donna, dall'uomo, e sulla prova a cui Dio sottopose i nostri progenitori. Genesi dal terzo capitolo al capitolo testo, versetto 8, il peccato originale e la progressiva corruzione dell'umanità. Tutto il capitolo terzo è dedicato al peccato originale e alle sue conseguenze, dopodiché dal quarto in poi, c'è la nascita di Caino ed Abele, e poi la progressiva corruzione dell'umanità. Per quanto riguarda i capitoli seguenti, Genesi 6, 9, 10, abbiamo il ciclo di Noè e il diluvio universale e l'alleanza con Noè. Ancora, per quanto riguarda l'ultima parte, Genesi 11, la torre di Babere. Questo è per quanto riguarda il quadro fondamentale. Ora, nel dettaglio, cominciamo ad andare a focalizzare questi capitoli. Anzitutto, il grande tema della creazione. Io adesso, ripeto, presento in generale, poi i testi li andiamo a vedere con calma nel dettaglio. Allora, la creazione e l'Eden. Abbiamo il racconto della creazione in sette giorni, che va dal primo versetto del capitolo 1 del libro della Genesi, fino alla prima parte del versetto 4 del secondo. La creazione è descritta come avvenuta in sette giorni. Evidentemente poi vedremo cosa significa. Sulla slide si legge il particolare facciamo l'uomo, perché, come vedremo, Dio fece, Dio fece, Dio fece, e soltanto quando si arriva alla creazione dell'uomo si dice facciamo l'uomo a di nostra immagine, di nostra somiglianza. Ecco, un testo che racconto quando ero tantissimi anni fa, ormai, quasi 25 anni fa, in Terra Santa a Gerusalemme a studiare l'ebraico, avevo un professore madrelingua ebreo britannico che appunto diceva è qui i cattolici, c'ero io e c'era qualche sacerdote, anche qualche segnalista come me, qui i sacerdoti quando dicono che ci vedono un'allusione alla Santissima Trinità, però insomma è discutibile. Certo che noi ebrei non è che capiamo molto bene come mai qui ti passano al singolare al plurale, disse proprio queste parole del genere. E poi il riposo di Dio al termine della creazione. Nel capitolo V, tutto il capitolo secondo, si descrive la creazione dell'uomo e della donna. Quindi l'Eden, la prova della libertà, l'albero della conoscenza del bene e del male. E poi, attenzione, attenzione, l'istituzione del matrimonio. Questa che è particolare, è molto molto importante. Il matrimonio non è stato istituito da nostro Signore Gesù Cristo con il sagramento del matrimonio, ma il matrimonio è stato istituito nel giardino dell'Eden. Quindi si fonda sul diritto naturale. Tanto è vero che quando a Gesù vanno a porre la famigerata questione sul divorzio, Gesù non dice non si può divorziare perché io tra poco istituisco il sagramento del matrimonio, ma riporta appunto Matteo capítulo 19 gli interlocutori alle origini. Al principio non fu così. Maschio e femmina li creò, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre. Come vedremo. Il matrimonio è stato istituito da Dio nell'Eden. Poi, certamente bisogna vedere di che matrimonio si parla. e qui faccio come al solito dal momento che sto impegnato in diversi cicli di catechesi aperti faccio uno switch uno switch pubblicitario al ciclo di catechesi sul peccato originale perché come era e come sarebbe stato il matrimonio senza il peccato originale è un argomento ampiamente discusso fin dai primissimi secoli del cristianesimo perché non tutti sono convinti che il matrimonio che Dio ha istituito avrebbe funzionato esattamente così come funziona adesso non certo per quanto riguarda l'indissolubilità ma per quanto riguarda la modalità di esercizio diciamo così dell'amore coniugale e di nascita della vita però di questo argomento si parla in quest'altro libro di catechesi io non entrerò evidentemente adesso in questo altrimenti dovremmo stare per dieci puntate 20 anche soltanto sul capitolo 2 del libro della Genesi nel terzo capitolo abbiamo la decadenza dell'umanità e poi il peccato originale e la progressiva decadenza dell'umanità la caduta la rovina anzitutto qui per chi segue le slides questa è la è il quadro di Raffaello sulla appunto sul peccato originale Genesi 3 ne faremo un'esegesi approfondita evidentemente perché è uno dei punti fondamentali la dinamica della tentazione il peccato originale quindi che cosa è da un punto di vista oggettivo che cosa risulta inequivocabilmente dal testo e le sue conseguenze e vedremo anche il protovangelo quindi ciò che Dio minacciò al serpente dopo appunto il peccato originale nel capitolo quarto del libro della Genesi abbiamo un particolare che nell'altro ciclo di Catechesi tante volte è ritornato nel senso che dopo il peccato originale ad Amedeva si uniscono e fanno due figli Caino e Abele come tutti quanti sanno Caino versa il primo sangue umano quindi uccide il fratello Abele dopo quest'uccisione e la condanna di Caino arriva il terzo figlio dei primi cioè Seth quindi rimangono vivi questo è un particolare molto importante Caino e Seth quindi due rami di discendenza uno proveniente da Caino e uno proveniente da Seth questo particolare sarà importantissimo perché dopo la parentesi di Genesi 5 con i patriarchi prediluviani quindi appunto con la discendenza di Seth di Caino fino ad arrivare a Noè e i suoi tre figli Sem Cam e Japheth c'è un passaggio fondamentale misterioso dell'inizio del capitolo sesto cioè il misterioso inciso sui figli di Dio e figli degli uomini e qui io farò riferimento leggerò sicuramente non ce la faremo a fare tutto in una puntata l'interpretazione che Gesù ha dato parlando di questo episodio a Maria Valtorta nei quaderni dal 45 al 50 precisamente il 30 di 1946 questo episodio e quindi la conseguente corruzione dell'umanità qui addirittura Gesù spiega anche da dove vengono i fossili dei mostri perché sapete che la gente che oppone argomenti a loro detta scientifici a racconto della Grecia diceva noi abbiamo i fossili i fossili non erano come oggi erano dei formi erano diversi e quindi c'è stata un'evoluzione un passaggio progressivo che se non capiamo bene le tappe in forme sempre più evolute fino ad arrivare all'uomo così come lo conosciamo vediamo che non è proprio così non è così semplice stante proprio il racconto della Genesi e ancora di più in forza dell'interpretazione che Gesù ha di questo brano anche se Gesù non la desse dalla struttura della Genesi si può comunque trarre evidentemente una certa lettura che non è assolutamente in chiave evolutiva ma anzi e allora no qui subito dopo abbiamo un attimo avanti ok si sono riprodotte le stesse slides subito dopo abbiamo ecco Noè e il diluvio universale quindi Genesi 6 da 9 a 10 scusate 6 versetto 9 fino a tutto il capitolo 10 sono quasi 4 capitoli dedicati al ciclo di Moè e come si strutturano allora anzitutto note ulteriori sulla corruzione della terra i primi 4 versetti subito dopo la descrizione della nascita di Mosè poi c'è l'arco di un capitolo dal versetto 13 del 6 fino al 16 del 7 con i preparativi e la costruzione dell'arca tutte quante le istruzioni date da Dio su come si costruisce chi si deve entrare come dove e quando poi l'inondazione il diluvio universale e poi il diluvio i giorni di acque la progressiva l'interruzione della pioggia quindi la progressiva abbassamento di livello e poi il famoso passaggio della coromba con l'amo d'olivo che Noè quando la vede capisce che allora si può dire l'arca perché la situazione comincia a essere diventata sotto controllo e poi audite audite nella Bibbia si parla di un grande nuovo ordine del mondo questo termine oggi il nuovo ordine mondiale è un termine molto influenzionato ma proprio sentiremo che c'è una sezione che almeno la classificazione dei paragrafi della cera chiama il nuovo ordine del mondo i nuovi ordini del mondo detto fra me e voi in chiave volutamente un po' polemico ironica i nuovi ordini del mondo li stabilisce nostro signore non li stabiliscono gli uomini a tavolino li stabilisce il nostro signore quando è ora di rimettere un pochino a posto l'umanità che sta messa male no? ecco io amo pensare che anche in mezzo a tutto quanto questo plasma che ci circonda ci sarà è come un nuovo ordine del mondo ma sarà un nuovo ordine del mondo che il nostro signore troverà il modo di realizzare nei tempi nei modi e nelle forme da lui stabilite chiuso parentesi comunque il sigillo di questo nuovo ordine e quindi dell'alleanza con Noè sarà l'arco balem segue subito dopo la terra ripopolata appunto dai discendenti dei tre figli di Noè che sono Set Kam e Japheth attenzione tanto per avere qualche informazione che dopo ci aiuterà a capire Kam per esempio si sposterà in Egitto per cui la terra d'Egitto è chiamata anche la terra di Kam e le popolazioni residenti in Egitto si chiamavano i Kamiti quindi ci sono tuttanto una serie di terminologie bibliche che tutti quanti questi elenchi discendenti di Adamo e di Noè è importante non dico impararmi però avere qualche quadro chiaro perché poi aiutano nella comprensione di alcuni passaggi della letteratura biblica vetro testamentare che è molto complessa oltre che molto e infine la torre di Babbele cioè Genesi 11 anche qui l'episodio è molto molto celebre abbiamo la torre di Babbele e la conseguente confusione delle lingue quindi la pluralità delle lingue secondo il brano biblico dipende da quest'intervento divino volto a mandare a monte il progetto della costruzione della torre di Babbele e infine i patriarchi post di Lugiani in particolare la discendenza di Set fino a Terak che è il padre di Abramo e così ci troviamo a Genesi 32 l'ultimo versetto del 32 nel capitolo 12 compare Abramo e la chiamata di Abramo e quindi l'inizio della storia della salvezza post di Lugiana diciamo così con la chiamata di quello che sarà il capostile del popolo di Israele e nostro padre anche nostro nella fede e come tutti quanti sanno penso che anche penso che tutti sappiate che i musulmani considerano Abramo loro padre nella fede questo perché tanto per anticipare qualcosa perché il figlio che Abramo fece non il figlio della promessa quindi Isacco quello nato miracolosamente con Sara ma il figlio che fece con la schiava Agar che è Ismaele è il capostipite del popolo arabo della razza araba perché anche i musulmani fanno riferimento ad Abramo ed ecco perché Abramo si trova a essere il capostipite diciamo così e il punto di riferimento comune delle tre religioni monoteistiche perché chiaramente il popolo della nuova alleanza è evidentemente connesso con il popolo dell'antica alleanza ma anche perché secondo la genealogia di Matteo la linea che porta al nostro Signore Gesù Cristo viene appunto da Abramo e quindi e ad Abramo furono fatte le promesse che si compiono a Gesù Cristo cominciando proprio dal racconto della creazione primo capitolo del libro della Genesi note da da rilevare allora al principio della creazione la prima cosa che Dio noi abbiamo soprattutto il famoso racconto in principio no? in principio Dio creò il c'era la terra attenzione che qui ci sta in ebraico è Breschit in greco è Enarche attenzione questo Enarche si ritrova poi nel Vangelo di San Giovanni ricordate nel principio era il verbo il verbo era presso Dio e il verbo era Dio ma il prologo del Vangelo di Giovanni comincia proprio con questo stesso Enarche in principio quindi in principio era il verbo e il verbo era presso Dio e il verbo era Dio ci dice San Giovanni tutto è stato fatto per mezzo di lui quindi questa connessione questa riunione del prologo del Vangelo di San Giovanni proprio con il primo versetto e con i primi versetti del libro della Genesi per far comprendere come diciamo nel credo per mezzo di lui tutte le cose sono state create come crea Dio ecco questo così vediamo subito facciamo una paraparentesi me la concedete per i pultori della divina volontà così ce la vedono in tutte e quante lingue del mondo Dio disse la prima cosa che Dio crea che è la luce ma la crea attraverso un un fiat Dio disse sia la luce è in italiano ma in latino è fiat lux ecco perché negli scritti della serva di Dio Luisa Piccarreta c'è sempre questo fiat 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 no? ecco il primo fiat cioè significa letteralmente non tanto non semplicemente sia ma sia fatta la luce in greco è egeneto quindi fiat in greco si dice egeneto mentre in ebraico si dice vaiechi fiat in ebraico è vaiechi o meglio yechi or sia la luce vaiechi or e la luce questo c'è il vav congiuntivo fu yechi or vaiechi or quindi la prima cosa che Dio crea è la luce no? questo non è un caso perché sempre nel Vangelo di San Giovanni attenzione che il Vangelo di San Giovanni è un un pozzo di da poco ho terminato gli incontri sul Vangelo di San Giovanni che sono online per chi volesse per chi volesse seguirli e quindi raccazzare anche un pochino meglio le cose che sto dicendo no? e cosa si dice nel Vangelo di San Giovanni? e nelle lettere di San Giovanni Dio è luce e lui e lui non ci sono terre io sono la luce del mondo quindi Dio crea come prima cosa la luce perché Dio è luce d'accordo? ecco attenzione qui vedete quindi Dio disse Dio vide eccetera eccetera no? Dio disse Dio vide Dio creò no? Dio creò il cielo e la terra qui il verbo e e lo imbarà il verbo è il singolare principio creavit Deus in latino ok? e poi sono Otheos in greco siamo al singolare quindi la creazione è descritta come una creazione successiva per separazione quindi primo giorno la luce il secondo giorno il firmamento in mezzo alle acque Dio fece il firmamento e chiamò il firmamento cielo questo è il secondo giorno siamo a Genesi 1.8 ancora terzo giorno Dio separa le acque che sono sotto il cielo da quelle che sono sopra il cielo da quelle che sono sotto il cielo e separa le acque che sono sotto il cielo perché si raccolgano in un solo luogo e quindi cosa esce fuori? esce fuori il mare la massa e la terra e questo è il terzo giorno e nel terzo giorno Dio produce anche i germogli le erbe e tutte le altre cose terzo giorno quindi le erbe e la terra e gli alberi da frutto quindi attenzione alla sequenza quindi la prima forma di vita che compare sulla terra è la vita vegetale interessante poi il quarto giorno vengono creati il sole la luna e le stelle Dio le pose nel firmamento per regolare Dio invece le due luci grandi Genesi 1.16 la luce maggiore per regolare il giorno la luce minore per regolare la notte le stelle e chiamo la luce grande il sole la luce della notte la luna e le stelle le stelle questo è il quarto giorno attenzione nel quinto giorno i primi esseri viventi che escono fuori chi sono? le acque brulichino di esseri viventi attenzione la prima cosa ora noi sappiamo e questo è un dato scientifico che possiamo e dobbiamo ritenere per uno perché non tutti perché nei cosiddetti dati scientifici dobbiamo sempre attenzione a distinguere tra le cose veramente scientifiche quindi provate quelle che sono invece teorie quindi sono possibili o probabili ma non provate ora la vita è nata nell'acqua questo sembra più che dimostrato e attenzione cosa dice il libro della Genesi le acque brulichino di esseri viventi quindi le prime forme di vita vanno a trovarsi proprio nell'acqua in particolare certamente che non può essere considerato del tutto ballerino o irrilevante le prime forme di vita però non è l'acqua e poi gli uccelli del seno li vena e dice e li fa moltiplicare questo è il quinto giorno poi l'ultimo giorno cominciano ad apparire rettidi bestiame bestie selvatiche e quindi insieme agli animali attenzione c'è anche infine l'uomo attenzione Genesi 1.26 qui compare Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine e a somiglianza e deve compare il plurale e attenzione c'è l'immagine e la somiglianza in ebraico abbiamo nase adam bezzalmenu chi demutenu quindi facciamo nase cioè la prima persona plurale l'uomo adam a nostra immagine a immagine nostra e a nostra somiglianza testo assolutamente inequivocabile ecco perché dice gli ebrei qui è proprio un facciamo oiesomen antropon kateikona meteran kai kathomoisin in greco questa è la versione della 70 quindi non ci sono e vedete facciamo Dio creò l'uomo a sua immagine versetto 27 immagine di Dio lo creò maschio femmina li creò e attenzione e Dio benedice siate fecondi e moltiplicatevi così come tutti quanti gli altri esseri viventi riempita la terra soggiogatela quindi li rende principi della terra e del creato e dominati sui pesci del mare sui cieli eccetera 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 ok allora attenzione che il versetto 31 Dio vide quanto aveva fatto ed ecco una cosa molto buona se non andiamo a vedere tutti quanti gli altri giorni precedenti torno su ne vediamo uno tutti per esempio per esempio Genesi 1.10 Dio chiamò l'asciutto terra la massa dell'erco e mare Dio vede che era una cosa buona anche dopo crea crea i germogli e le erbe Dio vide che era una cosa buona ma quando ha creato anche la sua grande capolavoro che è l'uomo dice attenzione Dio vide quanto aveva fatto ed ecco una cosa molto buona è l'ultima cosa che crea l'uomo e questo è certo che l'uomo è l'ultima cosa è l'ultima forma vivente migliore che comparsa sul pianeta terra quindi la Genesi rispetta questa questa cronologia attenzione quindi questa 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 regola e nel settimo giorno Dio si riposa e benedice questo giorno e lo consacra perché in esso c'è stato ogni lavoro che aveva fatto e queste sono le origini del cielo e della terra quando il Signore li creò allora capite che di questo brano sono molte le cose che si possono ritenere la creazione per esempio della luce per esempio ci sono alcune teorie per quanto riguarda l'origine dell'universo che se un giorno saranno perfettamente dimostrate che parlano di questa grande esplosione primordiale se così dovesse essere non c'è niente come dire che contraddiche il racconto della Genesi perché la prima ci viene detto genericamente che Dio crea la luce attenzione quella luce non è il sole il sole compare qualche giorno dopo che cos'è questa luce che è stato l'atto primordiale creativo di Dio punto interrogativo la sequenza delle forme di essere che compaiono sul pianeta Terra sono perfettamente in linea con ciò che risulta ciò che è tipico però è che Dio come vedremo adesso nel secondo capitolo l'uomo lo crea lui come essere assistante l'uomo non è il frutto di nessuna evoluzione e viene al termine del processo creativo ma non viene da niente di resistente come la Genesi specifica adesso subito dopo nel capitolo secondo andiamo subito a vedere questo particolare perché diamo direttamente al versetto 7 allora attenzione allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un'alito vita e l'uomo divenne un essere vivente allora vi faccio un attimo notare allora abbiamo delle come fa Dio a creare l'uomo allora plasma l'uomo in greco il verbo è in ebrego il verbo è yazzar non è bara bara è proprio creare dal dal nulla assoluto quindi Dio non è proprio creato dal nulla assoluto perché Dio lo plasma e come lo plasma con la polvere del suolo ricordati che tu sei polvere in polvere ritornerai attenzione nella versione della vulgata assai opportunamente San Girolamo che aveva tutta quanto una serie di codici suoi mette non semplicemente polvere a far è in ebraico e kun in greco ma limo il limo è la mota e il fango non è semplicemente la polvere è sempre roba che viene dal suolo ma non è terra secca ma è terra mista d'acqua o particolare mica di 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 nessun conto perché che cosa succede plasma l'uomo con polvere dell'uomo e soffia attenzione attenzione nelle sue narici alita un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente traduce la cei è un'anima vivente nefec in greco c'è psyuchen in latino c'è animam viventem qui si ha la traduzione del 74 che è la seconda colonna che è quella del 2008 traducono essere vivente non ci siamo tanto attenzione però seguendo il racconto della vulgata guardate che cioè un essere umano di che cosa è fatto di acqua e di materia che è riconducibile in ultima istanza a ciò che si trova in un mucchietto di polvere in cui noi torneremo quindi che cosa significa c'è una parte di noi ecco perché Dio plasma non è che crea tutto da nulla c'è una parte di noi che Dio plasma da una materia preesistente acqua e terra ma c'è una parte di noi che non plasma da una materia preesistente ma che la fa direttamente lui cioè lo spirito quella che si chiama tecnicamente anima l'anima vivente il capolavoro noi siamo un'anima come dire incarnata meglio sarebbe dire informata che costituisce un unicum con il corpo plasmata dentro un corpo ben particolare allora capite il dato che rimane a prescindere dall'interpretazione di questo testo qual è? è che c'è una parte dell'uomo che non è non è creata dal dal nulla ma c'è una parte dell'uomo e di ogni uomo anche di quelli che nascono dopo la creazione del primo uomo che viene sempre creato da Dio cioè è lo spirito cioè è l'anima comprendiamo no? o condizione dei nostri progettori il signore pianta un Eden e vi colloca l'uomo che aveva plasmato quindi l'uomo attenzione ricordiamo bene che la Genesi afferma una creazione dell'uomo perfettissima ed una condizione di beatitudine primordiale gli collocò l'uomo che cosa c'era dentro questo Eden ah ogni sorta di alberi graviti e buoni da mangiare attenzione c'erano poi due alberi dentro questo Eden l'albero della vita misterioso albero della vita in ebraico in mezzo al giardino e l'albero e la conoscenza del bene e del male l'ignunque scienze boni et mari salto tutti i passaggi misteriosi di questi quattro fiumi cioè non faccio un esegesimo passo per passo andiamo a vedere la prova Dio parla ad Adamo la donna ancora non ci sta ancora deve essere plasmata e gli dice guarda tu potrai mangiare tutti gli alberi del giardino ma attenzione ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne devi mangiare perché quando tu ne mangiassi certamente muodesti attenzione perché qui faccio contare una cosa che si vede benissimo nel testo ebraico non nelle traduzioni italiane perché noi non abbiamo queste espressioni un po' nel greco e nel latino allora c'è un modo di costruire la frase in ebraico che per noi non c'è allora be'yom achalha mimmenu mot tamut questo mot tamut allora mot è l'infinito assoluto del verbo del verbo mave del verbo mot che significa morire e tamut è invece l'imperfetto la seconda persona maschile singolare quindi se ci fosse soltanto tamut non ci sarebbe nessun problema perché dovremmo tradurre nel giorno in cui ne mangiassi achalha da questo mimmenu morirai ma c'è mot tamut cioè se uno volesse tradurre letteralmente è impossibile tradurlo perché dovrebbe tradurre nel giorno in cui ne mangiassi da questo morire morirai una cosa brutta attenzione che il latino esprime questa cosa in qualunque in indie coederis exeo morte morieris cioè morirai di morte e anche il greco edan emera fagete apaudu stato apotaneiste nel giorno in cui ne mangerai morirai con la morte questo lativo allora in italiano non esiste ma quando si trova questa espressione in ebraico che il latino e il greco cercano di rendere con questa circoluzione comunque atipica anche in quelle lingue noi dovremmo dovremmo tradurre così attento l'italiano cerca la traduzione della cei cerca un pochettino di renderlo certamente moriresti è poco certamente questa costruzione si ha quando si vuole rafforzare rienfatizzare in maniera assoluta un evento cioè guarda che se tu mangi ci puoi mettere la mano sul fuoco che proprio morirai inesorabilmente levati dalla testa che possa non succedere una cosa del genere è proprio sicuro è matematico quindi non lo fare per nessun motivo il senso è questo quindi capiamo anche la stupidaggine che ha commesso l'uomo trasgredendo a questo ordine e subito dopo c'è la creazione della donna attenzione anche qui plasma tutti quanti gli esseri viventi che riporta l'uomo non trova un aiuto che gli sia simile allora anche qui il signore Dio facendo un torpore sull'uomo che si addormentò gli tolse una delle costole e le inchiuse la carne al suo posto anche qui che la donna sia stata come dire creata da Dio in questo modo qualcuno sorride può sorridere quanto vuole perché siamo nel ventunesimo secolo e quindi siamo tutti quanti scienziati eccetera eccetera però sia da un punto di vista morfologico che da un punto di vista psicologico l'uomo e la donna è abbastanza evidente che sono due realtà complementari e fatti in una per l'altra cioè il dimorfismo uomo donna quindi la differenziazione fisiologica fisica e ma anche psicologica adesso non c'è tempo di approfondire qui ma in certi rami della psicologia è assodato il fatto che ci sia una complementarietà esattamente speculare cioè ciò che l'uomo ha in forma embrionale è debole la donna ce l'ha in forma accentuata e viceversa per cui ecco perché devono formare una cosa sola una cosa sola non significa necessariamente l'unione fisica ma è una completezza che soltanto dalla coppia uomo donna risulta evidente perfetta Adamo tutto contento dice oh finalmente la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta qui anche qui in italiano vedete in in latino si rende un po' in greco no perché in greco c'ha chione e andros ma in latino vocabitur virago coniam deviro sun ta est quindi vedete virago e viro quindi la donna viene dall'uomo in ebraico la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta vedete yiccare isha chime isha quindi vedete in ebraico l'uomo si dice ish e donna isha quindi si sente meglio no così come Adamo Adam tratto dalla terra ma terra in ebraico si dice adma quindi capite no Adamo è tratto dalla terra perché c'è manca una che finale e qui ish e isha l'uomo e la donna la donna tratta dall'uomo no ecco qui l'istituzione del matrimonio per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola attenzione però attenzione attenzione una carne sola non c'è non c'è un corpo solo in ebraico carne si dice basar cosa non si dice basar in latino si trova carne non corpore uno in greco si trova e i sarcamian non soma somatos che è corpo dico questo perché essere una sola carne non significa necessariamente e obbligatoriamente alludere all'unione coniugale corporea sessuale perché carne nel senso ebraico indica l'uomo come insieme di anima e corpo nella sua condizione creaturale dopo il peccato originale la carne quella di cui una papa quello di cui parla Gesù e la maglietta di Giovanni tutto ciò che è nato dalla carne è carne tutto ciò che è nato dallo spirito è spirito designerà non soltanto l'uomo nella sua condizione creaturale limitata che quella c'è sempre stata ma nella sua condizione creaturale decaduta quindi la carne diventa la sede delle passioni diventa la sede delle riserie delle imperfezioni di tutto ciò che ci trascina verso il passo dopo il peccato originale ma prima la carne è l'uomo quindi essere una carne non significa sì che te sempliciter l'unione l'unione sessuale l'unione sessuale ma è la composizione in una unità psicofisica di questo dimorfismo uomo donna attenzione se questo non fosse vero non voglio fare riferimenti domanda il matrimonio tra Giuseppe e Maria è stato un vero matrimonio oppure no perché se questo racconto della Genesi dovesse significare l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna non è sua moglie beh isto non è necessariamente moglie e i due saranno una carne sola allora il matrimonio tra Giuseppe e Maria non è stato il matrimonio era una finta se dovesse significare questo ok a che punto stiamo allora andiamo a vedere facciamo in tempo a vedere almeno il peccato originale allora qui si apre una parentesi abbastanza grande tutti quanti conosciamo il racconto andremo a rivedere qualcosa allora il serpente la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore attenzione a chi va a prendere di petto non all'uomo ma alla donna e attenzione a quello che gli dice è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino rispose della donna dei frutti degli alberi del giardino qui leggo il testo perché è necessario noi possiamo mangiare ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare altrimenti morirete d'accordo attenzione qui già la donna dalla dalla risposta che dava qui c'è qualcosa che non va perché non gli risponde moriremo sicuro al cento per cento e gli risponde semplicemente ve lo ti gu bo non lo dovete toccare pen temunnun scusate temut temutun cioè non lo dovete toccare affinché non pen significa a meno che vogliate morire ma non c'è quella forma rafforzativa per dire vuoi a te se lo tocchi se lo tocchiamo moriremo non è proprio sicuro al cento per cento e infatti proprio per questo il serpente in calza dice ma no e attenzione cosa dice il serpente quando risponde a Eva riguardate cioè per questo che sto mandando le slide di nuovo lo mot temutun vedete c'è un mot di più qui non c'è anche chi non conosce l'ebraico dice no non morirete affatto quindi Eva gli ha detto ma dovremmo morire e la diavolo dice ma davatelo proprio dalla testa cioè dice il contrario di quello che Dio ha detto mentre Dio aveva detto morite al cento per cento e la donna riferisce in maniera un po' debole questo comando lui lo conta dice ma qua stai a dire ma che te mori ma assolutamente non è vero niente ma te lo spiego perché anzi Dio sa che quando voi ne mangiaste i vostri occhi si aprirebbero e diventereste come Dio conoscendo il bene e il male terribile questa cosa cioè qui si sarebbe veramente da strada fino a quattro della mattina però capite la grandissima insinuazione ti sta ti ha privato della cosa che se tu la fai diventerai come lui e sarai tu capace di discernere il bene e il male da solo allora la donna dice che l'albero era buono da mangiare gradito agli occhi desiderabile per acquistare saggezza prese del suo frutto e ne mangiò poi ne diede anche al marito che era con lei e anche gli ne mangiò allora sì che si aprirono gli occhi di tutti e due giusto si aprirebbero i vostri occhi ma per per quale per quale motivo per vedere quanto è bello il bene e il male abbiamo si accorsero di essere nudi intrecciarono fogli di fico e se ne fecero cinture alla fine poi udirono il signore che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno e si nascose nasce la paura di dio vado veloce il signore chiama l'uomo lo chiamava allora lo chiamò gli dice ma dove sei ho udito il tuo passo nel giardino attenzione ho avuto paura attenzione iare in ebraico la paura nasce dal peccato prima di questa catechesi ho postato un tweet dopo scritto a commento di un salmo bellissimo che i figli di dio non c'hanno paura mai perché quando una persona vive in comunione con dio lontana dal peccato la paura non sa che cosa sia meno che mai la paura di dio meno che mai la paura di dio non esiste nel tweet che ho scritto ho citato il salmo 45 noi non temiamo nemmeno quando si sconvolge la terra nemmeno quando i monti cascano nel fondo del mare e il salmo prosegue i tweet sono brevi perché noi stiamo con colui che il mare il monte la fatti lui e mi protegge lui chi ti ha fatto sapere che è nudo quindi l'uomo cioè l'uomo che conosce che è rimasto privo qui chiaramente no la chiesa poi elaborato tutta quanta la dottrina dei doni soprannaturali preternaturali l'uomo si ritrova abbandonata a ciò che sarebbe in sé se dio non l'avesse ricolmato nell'atto stesso creativo di una montagna dei doni che sono andati tutti quanti per lui e poi cominciano lo scarico delle responsabilità l'uomo che dà colpa la donna la donna che dà colpa al serpente e cominciano poi le maledizioni primo al serpente e nella maledizione al serpente c'è il protocangelo Genesi 3 15 con la amicizia tra te la donna tra la tua stirpe e la tua stirpe e questa ti schiaccerà la testa e tu lo insiderai il calcagno in latino condanna per la donna le gravidanze moltiplicate partorire figli con dolore l'istinto verso il marito ma essere dominata da lui la condanna per l'uomo maledetto c'è un solo per causa tua con dolore ne trarrai cibo spinecardi produrrà per te mangerà il pane col sorolo della fonte tornerà la terra perché te sei strattato polvere tu sei e polvere ritornerai quello che abbiamo sentito dirci pochi giorni fa durante la celebrazione delle ceneri polvis s et in pulverem reverteris ok atta chi afar atta ve'el afar tashuv in ebraico e dopo questo episodio c'è la cacciata dall'albero dall'eden e la preclusione di mangiare del misterioso albero della vita ci fermiamo qui per oggi qualche piccola notazione sul peccato originale possiamo uscire anche dalla dalla condivisione così andiamo a concludere qualche piccola notazione sul peccato originale prima di chiudere allora anzitutto l'astuzia ho già fatto notare quel passaggio delicatissimo quindi la donna che oppone una blanda minaccia e il diavolo riprende al contrario le parole assolutamente allarmanti e perentorie date da Dio nel dare quella consegna un'altra cosa fondamentale la bisogna primordiale è vero che Dio vi ha detto che non potete mangiare niente allora lì questo perché possiamo trarre anche qualche piccola istruzione catechetica imparando anche Gesù e dalla tentazione nel deserto quando il diavolo viene non bisogna mai scendere al dialogo con lui è vero che Dio dice vattene via non ti voglio stare a sentire perché un dialogo di questo genere già per come si presente è tendenzioso perché già si fonda sulla enzogna si vede che è un tentativo di manipolazione oggi si parla tanto di manipolatori ma il primo manipolatore il primo che fa il lavaggio del cervello al prossimo è il diavolo e noi il lavaggio del cervello non ce lo dobbiamo far fare da nessuno né dal diavolo né da nessuno per cui quando si cominciano a sentire delle insinuazioni tendenziosi balordi si deve chiudere la porta e le orecchie del cuore poi sentiremo insomma tante cose che c'ha da istruirci il nostro signore che cosa è stato il peccato originale da un punto di vista oggettivo da quello che risulta dal testo anche se evidentemente il testo si esprime in maniera simbolica premesso una cosa Pio XII ha ribadito che gli eventi descritti nei libri della Genesi questo compreso raccontano certe volte in forma simbolica ma dei fatti realmente successi alla fine dell'umanità per cui il peccato originale è stato commesso ed è stato commesso dal primo uomo su istigazione della donna istigata a sua volta dal diavolo queste sono verità di fede chi non ci crede non può definirsi cattolico è fuori della comunione con la Chiesa e se qualche strafasione dovesse venire proprio da qualcuno che dovrebbe viceversa insegnarla la dottrina della Chiesa questo non cambia assolutamente nulla ma grava la situazione su questo intendiamoci quindi questa è rivelazione quindi queste sono verità di fede la verità di fede è per antonomasia come dire devono essere credute da chi intende crederci possono essere non credute da chi non vuole crederci ma se non ci credi sei fuori della Chiesa e della comunione con essa allora cosa c'è dentro questo peccato originale diventare come Dio diventare come Dio conoscere da se stessi il bene e il male questi sono fatti oggettivi cosa può significare diventare come Dio qui è lasciato lo spazio alla nostra alla nostra riflessione qui rimando al ciclo di Catechesi sul peccato originale dove approfondiremo c'è questo frutto proibito c'è la trasgressione di un comando divino quindi volendo andare un pochettino a sintetizzare allora nel peccato originale c'è un aspetto che riguarda certamente il vizio carattare della superbia diventare come Dio c'è l'elemento che è proprio il costituito formale del peccato che è la trasgressione quindi trasgredire un ordine positivo di non fare una cosa è quella cosa che non dovevi fare e c'è un elemento sensibile rappresentato dal frutto proibito sappiamo che anche nelle rappresentazioni che abbiamo visto prima quella di Raffaello da sempre è stato rappresentato l'albero in forma di albero reale il serpente in forma di serpente con la mela in bocca e col frutto proibito ora che sia stato un frutto che è una mela è completamente ridicola una cosa di questo genere ecco perché si tratta di fatti realmente accaduti ma che a tratti evidentemente sono descritti in maniera simbolica questo frutto non è semplicemente una che peccati a fare che peccato sarebbe mangiarsi un arancio oppure una mela oppure quello che era insomma è ridicola una cosa di questo genere Dio non fa le cose ridicole è chiaro che qui c'è la qualcosa di grande qualcosa di grande però che in quanto allegoricamente rappresentato da un frutto deve avere a che fare con i sensi per forza perché un frutto si mangia si gusta quindi è una cosa tangibile corporea quindi sicuramente quello che appare è che il peccato originale è un peccato complesso che chiama in causa elementi puramente spirituali la superbia e la trasgressione unitamente a elementi materiali il frutto quello che è stato lo si può capire anche dalle conseguenze e conseguenze su cui bisogna riflettere ma scusate qui ripeto non voglio rifare l'altra 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 catechesi no ma che c'entra col peccato originale il fatto che la donna deve partorire nel dolore ma che cosa c'entra che c'entra che c'entra che dopo il peccato originale si accorgono di essere nudi e si coprono che c'entra che c'entra col frutto proibito perché prima non bevano la nudità e poi la vedono quante domande che è lecito farci e a cui bisogna trovare anche una risposta ragionevole io non la do in questa sede in questa sede io rimango al testo però evidentemente lascio le domande che pone perché lavorerai con il struttore della fronte perché uno squilibrio un disordine nei rapporti tra uomo e donna verso te sarà il suo estinto ma lui ti domina perché sono tutti quanti perché sono perché significativi su cui dobbiamo riflettere no e perché il ritorno alla polvere addirittura la morte la morte come come conseguenza estrema di tutto questo ecco è bello questi sono i primi tre capitoli del libro della genesi la prossima volta andremo avanti non riprendo la presentazione ma andremo un pochino più spediti perché credo che con una volta chissà riusciremo a fare forse tutto non lo so però andremo a vedere una cosa importante l'ultima cosa che vorrei dire è che dico già da adesso poi riprenderemo è che nella genesi come si capisce la creazione è una cosa perfetta i sette giorni non sono sette giorni cronologici sette è il numero della perfezione il messaggio che deve passarti è che tutto quello che Dio aveva fatto era perfettissimo uomo compreso è a causa dell'uomo che tutto quello che Dio ha fatto si è corrotto quindi l'idea della genesi è si è passati da una perfezione ad una imperfezione che giungerà ad essere degradazione e depravazione per poi andare verso il meglio quindi questo sconvolge un pochino i canoni comuni che siamo abituati a sentire anche da certi ambienti scientifici lo approfondiremo la prossima volta perché questo si capisce bene andando poi a vedere che succede dopo il peccato originale e come c'è questa precipitazione proprio sparata verso il basso del genere umano ci vediamo se ti vuole la prossima puntata il prossimo mese la mia benedizione a tutti come sempre la mia benedizione la mia benedizione la mia benedizione la mia benedizione